rapido su questa cosa qui no, non farlo vedere qui ma è già iniziata la live ok, siamo qui, il live non possiamo fare smonze che c'è? hai cucchiato per avermi spiegato 10 anni di vita? non spoilerare io sono Dio come fai perché Kira è Dio? tu, è Dio voglio vedere i tuoi live i tuoi stupratori come si toglie? nascondi chat andiamo a 10 euro al mese nooo e spiegare i miliardi di euro per venire qua e poi il 15 euro c'è chi abita in me comunque c'è un video bellissimo che dovete vedere nooo però non c'è quello di Dio io urlo chi è Dio? ah ah Dio dove vuoi tagli la parte quando sto facendo qui? no, tu mi hai rovinato già a 20 anni di vita mi hai rovinato la carriera da youtuber non da puttaniere vedete che vuole i cosi? Dio mi urla! ha detto che si urla, che significa? siamo facendo un momento e Dio mi ha rovinato la vita Dio Dio guardo come era in giapponese? ferma il tempo Dio guardo 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 Dio è in inglese vedete che quello è il bello del Ryan? lo dico? che io cado dalla bici e poi tutti i mici Ryan, com'era quella parte quella lì di Jojo con Dio? non lo so Dio 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 si era così Dio guarda Tokyo Tokyo eh si è proprio Tokyo eh si ti apriamo dopo riguardo l'anime contro luce sei un segno nico l'acchi ah non puoi più aprire e tu non puoi più aprire io posso apri ah i blocchi non è vero nico si rende i blocchi nico hai bloccato la maniglia nico dico se lo fa con lui non sai che hai buggato la maniglia in un lato? come si è buggata la maniglia? era così e la bici non la tiri fuori no la tua bici fa cadare guarda quello che va in giro con una grassiella è già uscito quel video quindi non è uno spoiler cosa? hai dato un figlio non hai fatto un figlio non hai fatto un figlio non hai fatto un figlio eh ho già fatto un figlio no perché è ricaduto ti sei messo anche ehi come fai mettiti in una pose in cui sono caduto yamka pose era così andava cazzo esatto connessione scadente nooo mi ha dato della connessione scadente se hai tutto sporco io lo pulisco no e poi hai detto e sei fatto male dice connessione scadente è uno stronzo in pratica sei laio? si nooo la mettiti tipo quando ero caduto nella pose in cui ero caduto ma perchè la tua bici? tipo quella di yamka mettiti come yamka eh così la bici era così e io ero per tipo lei laggiù diceva aiutami non ce la facciamo per me si e poi partita la sigla di George quella tutururu e poi c'è tutto a metà poste la bici e non funziona più in questo qua non è vero io sono un bravo bambino dobbiamo perdonare delle carriere oh ho detto che il bello dell'aria è che oh ryan io chiediamo e poi tutti ridono così non puoi andare al garage perchè? non prende la rete ah e mi chiudo dentro è fatto il piombo faccio un po' lei così moriamo tutti avvelenati ma lui sa che vuol dire le ruote le mie ruote ma se ne hai 10 oh io non ho 59 sei ventenne io non ho 90 sei un ventenne no io non ho 90 e tu dammi la mia bici prima di tutto prima di tutto devo registrare le macchine che ci fanno le targhe quali targhe? siamo in corea qui del nord prendo le forbici e faccio forse prendo e taglio la simile del telefono Nico guarda cosa hai fatto Ale ti sei buggato ecco mi hai buggato la live adesso sta tutta strana non funziona più ecco si è storta la live si è storta credo sia a posto ero stato iet e sto è storto signals però che si viene salgo qua sopra esplode la nord corea Ma perché devi usare Perché hai sminchiato il sedile Ecco, hai iniziato a laggare tutto Io guido con una mano Sì, ma poi non frena più la bici C'è un calabro nel suo testo C'ho una testa sul... Guardate, vado velocissimo Zero chilometri orari Cammino, va a zero chilometri orari Porco Dio Dio porco Connessione scadente Connessione scadente è un tubo Connessione scadente, puttotove In una lotta di fumo Quale bici? Non è mica Rocket League La tua cade prima Porco Dio Escono da bravi No, mi dissocio Beh, vado Ho preso la scossa dal telefono Com'è possibile? C'è la macumba Ma mi si bagga la fotocamera Visto che mi sta bloccando tutta la videocamera La denunzio Sta iniziando a spegnersi il telefono in momenti strani Quindi blocco la live Guardate, quella di Ryan E tu si chiama Ryan? No Si chiama Elvis Ryan E L E L V I Sh Ryan R Y N Io la denunzio perché Perché mi stanno arrivando i peggio virus La denunzio La denunzio Andate guai con lei Ryan Perché il mio telefono A qualcosa non va In Cile In Cile